Domani sono a San Paolo e poi prendo l'aereo e sono tutta tua Paolina mia Ti aspettiamo, abbraccio Allora sono tornate di... Non sappiamo niente Allora tu sai molto bene, sono tornato a un filmato, vero? Sì, credo che sia arrivato quello di Marco, l'impresa della settimana di Baldini Allora lo sapete tutti, l'impresa di Marco della settimana era quella di... No, 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 non lo voglio il filmato Il peggiore della settimana purtroppo devo dire che anche questa settimana è stato Ciro Mi dispiace per Ciro, devo dire azioni di Samba C'è stato proprio un insegnante che è venuto qua E devo dire che ce l'hanno messa tutti, ma non è che i risultati siano fantastici Dovremmo forse vedere qualcosa Esatto, vediamo Oppure vogliamo improvvisare Buona festa Sono già andati Non ti posso dire, Paola Ma la tua grazie Dio